Papa Francesco, tu sei un eretico, urla un prete cristiano ortodosso. Papa Francesco, tu sei un eretico, urla un prete cristiano greco ortodosso. Lì, mentre Papa Francesco è andato a visitare la Grecia, che è cristiana greco ortodossa, fu nel lontano 1054 d.C. che si consumò lo scisma tra il cristianesimo occidentale romano e il cristianesimo orientale. Greco, russo, slavo, fu nel 1054 d.C. che ci fu la prima spaccatura nel mondo cristiano. Dopo ci fu l'altra spaccatura nel cristianesimo occidentale, una spaccatura con Martin Dutero e Giovanni Calvino. No, perché Martin Dutero diceva che di servo arbitrio, di servo arbitrio, mentre il cristianesimo romano diceva libero arbitrio. Martino Dutero diceva che di servo arbitrio, cioè che noi siamo schiavi, siamo schiavi. Beh, insomma, tornando a troppo al tema, del tema mi informa il caro amico Alessandro Macioca, che è tanto appassionato di queste cose, tanto appassionato Alessandro Macioca. Mi ha informato subito che un prete, un prete cristiano greco ortodosso, là nella Grecia, dove c'è appena andato Papa Francesco, lo si è buttato per terra, che ha urlato, Papa Francesco, tu sei eredico. Io penso a ciò che pensa il nostro buon Dio cristiano, il nostro buon Dio cristiano. Cosa penserà mai il nostro buon Dio cristiano? Da una parte c'è il Papa Francesco, che viene definito il Papa, è il vicario di Cristo in terra. E dall'altra parte c'è il mondo cristiano greco ortodosso, che non ha tanta simpatia per il nostro vicario di Cristo in terra, che è il nostro Papa. Qua c'è un Papa, un Papa cristiano greco ortodosso in Grecia, che si è buttato per terra, urlando, Papa Francesco, tu sei eredico. Ci sarà rimasto molto male Papa Francesco, sia chiaro che è una brava persona Papa Francesco. Tra parentesi, Papa Francesco è pure un Gesuita, è il primo Papa Gesuita. Da quando nacque la Compagnia di Gesù, creata da Ignazio di Loyola, nel 1540 circa, cioè alcuni secoli fa, non ci fu mai, da allora non ci fu mai un Papa Gesuita. Papa Francesco è il primo Papa Gesuita. C'è l'ordine di Gesuiti. Si chiama ordine di Gesuiti, perché si rifanno a Gesù. Se li fanno a Gesù, se li fanno. Chissà come ci è rimasto male Papa Francesco, al cospetto di questo sacerdote cristiano, ma greco ortodosso, che ha urlato, Papa Francesco, tu sei un eredico, pensate un po'. E cosa avrà mai pensato il nostro Dio? Overlord, perché gli inglesi definiscono Dio Overlord, Overlord, il Signore che sta sopra. Cosa ha mai pensato Dio a vedere queste spaccature dentro il mondo cristiano? Io non lo so, cari amici, proprio non lo so. Non so che dire, non so che dire. Io so soltanto una cosa, che c'è questa opera storico-mitologica, la stilpe del serpente, che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. E presto si avvicina il Santo Natale, e tutta la gente festeggia, festeggia la nascita di Gesù. Festeggia la nascita di Gesù. Tutta la gente va nei negozi, nei negozi, a comprare le strene natalizie. Ma dai, ma dai non sperperate il vostro denaro inutilmente. Andate in libreria e comprate questa opera storico-mitologica, che potrà allietare le sante feste, cari amici, le sante feste. A te, Alessandro Macciocca, a Papa Francesco.